Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio questa nuova Chiesa con la celebrazione del sacrificio del Signore. Grazie. Partecipiamo con fervore a questi sacri liti in religioso ascolto della parola di Dio perché la nostra comunità, nata da un solo battesimo e nutrita della stessa mensa eucaristica, cresca in tempio spirituale intorno all'unico altare, si rafforzi e progredisca nell'amore che lo Spirito Santo diffonde nei nostri. Voglio ricevere dal costruttore le chiavi della nuova Chiesa. Parcate le porte del Signore con indi di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Grazie. 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 Grazie.